Come tutti sanno, dal 1 gennaio 2011 in tutta Italia le inquinanti borse di plastica sono state ritirate dal mercato per essere sostituite da quelle biologiche e biodegradabili, ma anche queste ultime presentano dei difetti. Proprio per rinforzare nella popolazione l'attenzione alla sostenibilità, l'Unione, insieme all'assessorato all'ambiente, all'ente bilaterale per il terziario e il consorzio dei comuni, ha prodotto la borsa amica dell'ambiente, riciclabile al 100%. Si tratta un po' di tornare alle radici, noi abbiamo distruito questi sacchetti in 800 esercizi alimentari, membri associati all'Unione, circa 60.000 borse sono state distruite, io penso che in questi giorni si vedranno tante in Alto Attice. L'utilizzo della borsa amica dovrebbe diventare per tutti un'azione naturale. Sappiamo tutti che la plastica, la borsa di plastica è vietata e noi diciamo sempre come principio, se vi è inventato un comportamento, un prodotto, noi diciamo sempre dobbiamo creare un'alternativa. E questa alternativa deve essere migliore, più interessante, più bella e per cui abbiamo sviluppato questo prodotto, questa borsa che è ecosostenibile, è bellissima, è design, per cui proprio un'alternativa al passato. Questa borsa è un simbolo del futuro. Da oggi e nei prossimi giorni oltre 60.000 borse saranno distribuite alle famiglie altoatesine da parte di tutti i negozi del commercio al dettaglio di alimentari associati all'Unione.